Esce pure questo qua? No questo l'ho fatto io, questo è un booster cioè entri con una cella a 3.7 esce a 5 l'ho preso mo' per alimentare questo per alimentarla si sembra che ti dissi io però così non la alimenti, la carichi che ho provato a togliere la batteria e non sappici stiamo registrando? si si siamo registrati è una bella faccia è il capello un poco che si brizzolano eh no fanno un'anzalutica eh io sono andato a scendere i messi ragazzi ma voi mangiate qua no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.